Il sindaco di Agrigento ritira la proposta di delibera relativa all'introduzione della tassa di soggiorno per i turisti. La decisione è stata comunicata dal primo cittadino con una nota inviata agli uffici comunali di presidenza del Consiglio e dirigenza del settore finanziario. Per la discussione organica del tributo, il sindaco Zambuto attende le proposte avanzate dagli operatori del settore in sede di distretto turistico regionale della Valle dei Tembli, organo quest'ultimo presieduto dallo stesso Marco Zambuto. Vogliamo evitare, scrive nella nota il sindaco di Agrigento, che continuino le strumentalizzazioni pseudopolitiche di questo periodo agostano che continua Zambuto, sicuramente non giovano alla soluzione dei problemi. Il nostro unico interesse, conclude, è quello di perseguire il bene comune. E sulla scelta adottata dal sindaco di Agrigento esprime soddisfazioni il responsabile di piano dello stesso distretto Gaetano Pendolino. Il sindaco, dichiara, ha fatto una scelta oculata e giusta che chiaramente contribuisce a far crescere la governance pubblico-privata del nostro territorio. Nei prossimi giorni, conclude Pendolino, convocherò il tavolo di concertazione sul tema dello sviluppo turistico dell'intera area.